GaiPort. Informazioni sulle condizioni del traffico nelle aree portuali e retroportuali. Monitoraggio dei veicoli che circolano in porto e del loro tempo di permanenza in area portuale. Prevenzioni di incidenti e riduzioni della congestione del traffico in area portuale. Telecamere, lettori di targhe, dispositivi GPS in un sistema intelligente di rilevazione dati. Autore dei sottotitoli e revisione a cura di QTSS